Annoiato o in cerca di informazioni? Ti ricordi di come sei arrivato qui? Quante volte ti capita di prendere in mano questo oggetto e risvegliarti dopo 10, 30 minuti, un'ora, con una sensazione di stordimento? Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, citava qualcuno. I big di internet probabilmente ci vogliono incollati qui, tutto il giorno. Per poter fatturare di più. Non, quello è il loro business, il fatto che noi rimaniamo qui incollati. E lo fanno giocando con i nostri istinti, facendo leva su quelle che sono le nostre emozioni. E quindi abbiamo già perso in partenza. Beh, se non accendiamo il cervello, molto probabilmente sì, signori, siamo spacciati. Ma se ci riflettiamo, siamo noi i creatori di contenuti. Siamo noi che investiamo il nostro tempo per creare video, per scrivere post, per pubblicare foto, per condividere, mettere là i commenti. Quindi siamo noi ad avere il potere. Oggi più che mai abbiamo questo potere, abbiamo il potere di poter creare e trasmettere messaggi positivi. Abbiamo il potere di poter raccontare qualcosa di utile, di poter tramandare qualcosa che serva veramente alle persone. Ma questa responsabilità ce la dobbiamo assumere. Io ho fatto la mia scelta. L'ho fatta proprio con questo canale e cercando di sperimentare ogni giorno qualcosa di diverso, di nuovo. E tu cosa aspetti a prendere in mano questo aggeggio? Iniziare anche tu ad assumerti la responsabilità di rendere questo mondo un posto forse migliore. Attenzione, è risaputo che condividere questo video può causare effetti positivi sia in chi lo riceve e sia in chi lo condivide. Quindi, se sei ancora nel dubbio, condividi! Grazie a tutti!